Una città Taranto che ha proprio nelle sue corde, nella sua natura, il mare. E allora scommettiamo su questa risorsa, investiamo tutte le nostre energie, il nostro impegno, in questo senso questo accordo di programma tra assonautica e amministrazione comunale di Taranto. La città ha già scommesso e ha già puntato. Si tratta, come stiamo facendo oggi, di ampliare la platea di quelli che credono in questo progetto e di quelli che danno il contributo concreto per questo progetto. D'altra parte le bellezze ci sono, la storia c'è, la cultura c'è, le opportunità ci sono, non solo nell'ospitare ma anche nell'ospitare bene, non solo dal punto di vista turistico ma anche dal punto di vista dei servizi che vengono date a quanti attraccano nei nostri porti. Quindi benvengano altre iniziative, benvenga un coinvolgimento che vi dà sempre di più, coinvolti quanti più tarantini possibili. Investiamo nel bello perché il bello vuol dire ottimismo, vuol dire impegno.